Finalmente oggi avete riaperto dopo due mesi e mezzo di stop, come è andata questa prima giornata? Questa prima giornata è andata bene, noi in particolar modo abbiamo aperto già più di un mese fa perché avendo articoli da bambino e quindi avendo la necessità, le future parti orienti di dover fare Corredino abbiamo aperto anticipatamente, oggi c'è sicuramente più movimento perché tutti i negozi, tutte le attività sono aperte c'è tanta gente anche perché diciamo che quelle che erano le restrizioni fino a ieri sono venute meno Fortunatamente stamattina è andata abbastanza bene e noi siamo un gruppo con dieci punti vendita tra cui due su Bitonto e altri otto sempre in provincia di Bari Diciamo la clientela risposta anche perché in questi due mesi siamo stati vicino con delle dirette, con dei messaggi Siamo stati molto vicini, abbiamo fatto anche il delivery, che c'era la possibilità di fare consegna a domicilio abbiamo lavorato diciamo qualcosina giusto per le spese spero che da oggi in poi si riprenda di nuovo a lavorare, non dico come prima ma almeno una piccola ripresa Ma voi siete stati molto vicini alle vostre clienti anche sui social? Tantissimo, in realtà sono state le mie clienti a stare vicino a Suite 43 in questo momento C'è stata una grandissima condivisione e solidarietà e io non ho mollato perché rispondevano talmente bene che c'è stata una sinergia e un modo di motivarci a vicenda e questo mi ha aiutato tantissimo a non mollare Ovviamente molta merce è rimasta in venduta ma voi dai colori che vedo nel negozio siete già pronti per affrontare la stagione estiva? Sì è come se partisse in questo momento quindi il restart avviene oggi 18 maggio si parte oggi quindi con tanta grinta, colori vitaminici per dare energia a tutti A primo impatto abbiamo visto che comunque c'è entusiasmo almeno in questa prima giornata c'è entusiasmo Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che tutto torni alla normalità come abbiamo lasciato alla fine Sono venuti già i primi clienti oggi? Sì sì fortunatamente sì, ho detto c'è stato un bel approccio, c'è entusiasmo almeno quello che si vede dalla prima giornata, dal primo giorno Sì oggi ci sono state le mie clienti storiche che non vedevano l'ora di incontrarci quindi anche di poterci almeno guardare perché lo sguardo oggi è quello che viene più impresso nel cuore Immagino che avete anche molta merce in venduta della collezione vecchia e ora avete sicuramente integrato con l'abbigliamento estivo Allora, della collezione vecchia, quello che non si è venduto è un discorso tutto legato alla cerimonia e anche altre ricorrenze come le comunioni, i battesimi che sono stati spostati per il 2021 se non erro Altri invece se si faranno si faranno ad ottobre e novembre Allora, a livello nazionale credo che i saldi siano in ogni caso slittati al primo di agosto piuttosto che ai primi di luglio e speriamo che le cerimonie si possano fare nei primi mesi autunnali in modo da poter sopperire in un certo senso alle perdite avute con la chiusura forzata Voi quali procedimenti avete adottato per mantenere la vostra attività secondo le norme previste dal governo? Allora, per quello che c'è stato possibile fare abbiamo innanzitutto chiesto alla clientela di entrare con la dotazione personale dei dispositivi di protezione quindi mascherina e guanti e di igienizzare le mani all'entrata e di non toccare eventualmente i capi Abbiamo fatto una sanificazione con tanto di certificazione Allora, igienizzanti in ogni stanza con la loro colonnina apposita due persone per volta, in realtà su appuntamento in maniera da poterci organizzare Abbiamo un registro dove scriviamo anche i nomi e cognomi di chiunque entri in negozio per monitorare tutto e abbiamo tantissima cura anche per l'igiene dei capi Abbiamo uno stendino apposito dove posizionare i capi che ognuno ha provato e che non acquista ovviamente che igienizziamo ogni due ore Igienizzante per le mani, mascherine, guanti abbiamo a disposizione la distanza di sicurezza Grazie a tutti